La decisione delle due regioni di mantenere la didattica distanza per gli istituti superiori motivata dall'aumento dei contagi tra i giovani scatena la bagarre politica a PD e 5 Stelle contro i governatori leghisti. A fronte di una percentuale di contagi che rimane stabile attorno al 12% tornano a crescere i ricoveri ospedalieri, altri 24% ed eccessi, vaccinazioni al 30%, domani arrivano le dosi della Psyfer. Si va verso un decreto ad hoc per stabilire le nuove misure restrittive per i giorni successivi all'epifania. In serata al Consiglio dei Ministri i commercianti all'attacco per l'ipotesi di nuove chiusure. Si lancia il crowdfunding per le partite IVA. 4 arresti e 18 denunce per pedopornografia e altre 8 per l'adescamento di minori. Non sono mancate le diffamazioni online, le minacce e le molestie. 50 le denunce per truffe online e fraude informatiche. Nacho domani mattina sarà a Roma per un consulto con il professor Mariani che deciderà se optare per una terapia conservativa o procedere all'intervento. Buona serata e ben ritrovati in diretta con l'informazione di Uninese TV. In apertura c'è il tema scuola che sta creando col passare delle ore tantissime polemiche. Dopo la decisione stamattina annunciata dai governatori del Friuli Venezia Giulia, Fedriga e del Veneto Zaia di prorogare la partenza delle lezioni in presenza per le scuole superiori al primo febbraio. L'ordinanza firmata da Fedriga è arrivata poco fa. In base al testo l'attività didattica delle scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie si legge delle istituzioni che ergano percorsi di istruzione e formazione professionale saranno svolte ancora in didattica a distanza. Resterà sempre garantita la possibilità di svolgere l'attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori strutturati e attrezzati non fruibili da remoto o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali garantendo comunque il collegamento online con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. L'attività dei servizi per l'infanzia, per la scuola dell'infanzia, il primo ciclo di istruzione continuerà a svolgersi integralmente in presenza. Confermata fino al 31 gennaio compreso l'attuazione e articolazione dei servizi di trasporto pubblico locale ferme e restante eventuali rimodulazioni. Questo è il testo appena pubblicato di questa ordinanza, un'ordinanza che era stata anticipata stamattina in conferenza stampa a Trieste dall'assessore regionale all'istruzione Alessia Rosalen. Allora andiamo a sentire prima anche le motivazioni rese dal vice governatore Riccardi sull'aumento dei contagi soprattutto tra i giovani che hanno portato a questa decisione. Riccardi. Si è parlato di un rientro a scuola ma che deve essere fatto in sicurezza per questo posticipato. A parlare sono soprattutto i numeri. Il vice governatore le ha mostrato delle slide in cui la fascia di ragazzi tra i 10 e i 19 anni è proprio quella che risulta più positiva da settembre alla fine dell'anno. Diciamo che questa è una decisione di politica sanitaria prevalentemente. Noi abbiamo due fenomeni. Il primo fenomeno è osservare come va la pandemia e la capacità dei suoi sistemi di governarla, la capacità di riuscire a contenerla e ad applicare le misure che sono necessarie. Noi abbiamo una forte pressione nel sistema ospedaliero e quindi dobbiamo cercare di preservarlo e limitare tutte le azioni che potrebbero determinare ulteriori aumenti di contagio che sono già elevati. L'altro aspetto è ovvio riguarda la scuola come l'abbiamo immaginata rispetto alle condizioni per le quali noi non dobbiamo osservare il fenomeno che può accadere dentro o fuori la scuola. Noi dobbiamo osservare il fenomeno di coloro che frequentano la scuola. Quindi se noi analizziamo i dati dal 30 di novembre al 27 di dicembre vediamo che la categoria che ha il livello di contagio più alto, cioè l'insieme, è dei ragazzi tra i 10 e i 19 anni. Questo è un segnale importante. Non significa che i ragazzi si contagiano a scuola, significa che però se sono contagiati e sono in una condizione asintomatica evidentemente la scuola diventa un punto molto fragile, delicato e pericoloso perché il contagio si può propagare con grande intensità formando delle catene e aumentando il contagio. Quindi è questa la valutazione complessiva dove stiamo assistendo anche a una riduzione delle patologie gravi rispetto all'età, che è l'altro tema sul quale tutti i nostri esperti stanno approfondendo per capire quali sono le ulteriori misure che possono essere messe in campo in un momento sicuramente non facile. Il momento più complicato è quello proprio prima della scuola e dopo la scuola, proprio per questo anche la protezione civile scenderà in campo. Sì, al termine di questa ordinanza perché noi abbiamo ragionato sul fatto che la scuola nel momento in cui apre deve restare aperta. Se non hai la ragionevole probabilità di questo è evidente che poi ti trovi ad assumere una decisione come quella che abbiamo preso. Relativamente alla disponibilità della protezione civile noi abbiamo risposto a una richiesta dei prefetti, quali ci chiedevano di mettere a disposizione il sistema di protezione civile per garantire quei distanziamenti in entrata e in uscita al sistema scolastico. Questo dunque per quanto riguarda le motivazioni che hanno indotto la Giunta a prorogare la ripartenza della scuola in presenza, ma sul fronte parallelo c'è il sistema di trasporto pubblico locale che comunque è stato organizzato proprio per permettere di rispettare le varie misure previste dalla Governo. Allora dalle parole dell'assessore regionale alle infrastrutture e trasporti pizzimenti andiamo a capire proprio come si organizzerà il servizio dei pullman dedicati agli studenti. Posticipata la ritorno in classe degli studenti per Alfrulli Venezia Giulia è pronta a ripartire con una presenza al 75% grazie a un progetto trasporti ben studiato. Sì, noi abbiamo fatto un progetto, abbiamo concordato una metodologia che porta poi i ragazzi fino al 75% in classe. Questo era poi l'obiettivo, lo abbiamo raggiunto con grande fatica, però siamo convinti che questo era l'unico modo per avere un po' di sicurezza per i nostri figli. Lei ha parlato poi della possibilità ovviamente sui vari bus e sui vari mezzi comunque di un po' di affollamento, quindi non dobbiamo preoccuparci più di tanto perché i numeri comunque non permettono il distanziamento del metro. No, non è che ci sia un affollamento, è quanto previsto dal DPCM, cioè il 50%. Fino lì dobbiamo tenere presente che non vuol dire il distanziamento sociale, cioè il famoso metro, metro e mezzo, due metri che bisogna in teoria rimanere di distanza tra una persona e l'altra, all'interno dei mezzi pubblici non esiste. Quindi con questa percentuale di riempimento si potrebbe avere fino a tre persone all'interno di un metro quadro di mezzi pubblici. Parlando della provincia di Udine, 30 mezzi in più, come avverrà la suddivisione? Beh, intanto dobbiamo dire che non tutta la provincia di Udine cambia orario e questo vuol dire che ci sono dei plessi scolastici che mantengono l'orario storico, c'è l'entrata alle 8, l'uscita alle 13, più o meno ovviamente, mentre altri avranno una diversificazione di due entrate alle 8, alle 10, quindi uscita alle 13, alle 15. Questi 60 mezzi in più danno la possibilità di portare appunto il 75% eventualmente, fino al 75% con 50% riempimento di sicurezza a scuola. Certo è che forse la prima settimana ci saranno difficoltà, ma questo è normale anche all'inizio dell'anno scolastico, in un anno scolastico normale ci saranno queste difficoltà, ma siamo anche pronti a intervenire in caso di necessità. Fin qui le decisioni e le motivazioni della giunta regionale del Friuli Venezia e Giulia. Sul fronte opposto si scatena la bagarre politica. Poco fa ha parlato il ministro dell'istituzione Azzolina che dice le regioni riflettano bene sulle conseguenze per studenti e famiglie dopo queste decisioni. Il governo ha mantenuto gli impegni, i tavoli guidati dai prefetti hanno prodotto piani operativi in tutte le province, lavorando sul potenziamento dei trasporti e sullo scaglionamento degli orari di scuole e altre attività. Ognuno faccia la sua parte. Si aggiunge poi la dichiarazione del ministro degli affari regionali Boccia. Chi sposta in avanti l'apertura delle scuole allora deve spostare anche la riapertura delle altre attività. Il riferimento è all'apertura degli impianti dello sci a partire dal 18 gennaio. Il segretario regionale del PD Sciaurli. Se i dati Covid in Friuli Venezia e Giulia sono allarmanti, come quelli del Veneto, se la situazione dei nostri ospedali e della sanità rimane preoccupante, è giusto assumersi responsabilità di scelte non facili come la chiusura delle scuole. Ma sia chiaro, dice Sciaurli, che arriviamo a questo punto per sottovalutazioni ed errori evidenti, perché sono stati dati messaggi sbagliati e cattivi esempi, come Fedriga, le manifestazioni contro le chiusure o le contestazioni alla zona arancione, fortunatamente decisa dal governo. E soprattutto è mancato, conclude il segretario Dem, il rafforzamento della prevenzione e della sanità territoriale. A proposito delle novità sui dati del contagio in Friuli Venezia e Giulia, quello che emerge oggi dal consueto punto della protezione civile è che la percentuale di contagio rimane più o meno stabile attorno al 12%, ma i numeri dei ricoveri nei reparti ospedalieri tornano ai livelli di picco del dicembre scorso. Francesca Santoro. Continuano a salire ricoverati in vari reparti ospedalieri causa Covid, tanto da arrivare con 5 unità in più, a quota 663, pari al picco della seconda ondata che era stato raggiunto lo scorso 9 dicembre. I pazienti accolti in terapia intensiva sono 63, due in più di ieri. Secondo il report della protezione civile, oggi in Friuli Venezia e Giulia, sono stati rilevati 328 nuovi contagi, l'11,8% dei 2.767 tamponi effettuati, di cui 329 test rapidi antigenici, due contagi rilevati tra gli ospiti delle case di riposo e quattro tra gli operatori delle stesse, a cui se ne aggiungono 14 tra il personale medico infermieristico degli ospedali. Il totale delle vittime sale a 1.731, con 21 decessi a cui si aggiungono tre morti pregresse. I totalmente guariti sono 37.188, 205 in più rispetto a ieri, e clinicamente guariti salgono a 970. Aumentano però anche le persone in isolamento, che sono 10.967, 37 e più del report precedente. Il vicegovernatore, Riccardo Riccardi, ha reso noto che a ieri, in Friuli Venezia e Giulia, è stato utilizzato il 30% delle dosi di vaccino disponibili, che sono oltre 11.000. Con l'aspicio che l'adesione aumenti, il vicepresidente ha sottolineato siamo in attesa che vengano perfezionati i bandi a livello nazionale e che ci venga mandato il personale aggiuntivo per portare avanti il piano vaccinale. Riccardi ha anche rimarcato che la Regione si sta attivando con il Governo centrale per sciogliere il nodo del consenso informato per gli anziani ospiti dell'RSA, che non sono in grado di decidere per se stessi e che non hanno un amministratore di sostegno. Nel mentre è importante che le strutture raccolgano il consenso informato delle persone che possono essere vaccinate e che sono in grado di esprimerlo, così che si possa procedere con l'immunizzazione. Andiamo a dare un'occhiata anche ai dati a livello nazionale. Sono 10.800 quelli registrati quest'oggi, le vittime sono invece 348, a renderlo noto il consueto bollettino del Ministero della Salute. È invariato invece rispetto a domenica il tasso di positività, fermo al 13,8%. Sono stati effettuati però pochi tamponi, 77.993. Diminuiscono i pazienti ricoverati in terapia intensiva, sono 4 in meno rispetto a ieri. Negli altri reparti invece sono 23.317, ancora le persone ricoverate, 242 in più rispetto a domenica. Andiamo a dare un'occhiata anche al consueto aggiornamento rispetto al programma delle vaccinazioni nel nostro paese con il totale che sale a 122.528. Questo è il dato nazionale. Per quanto riguarda la nostra regione, siamo a 3.471, ma manca l'aggiornamento di fine giornata. Nel frattempo, proprio oggi è arrivata la notizia che da domani giungeranno nelle varie regioni le nuove dosi del vaccino per aumentare le disponibilità del personale sanitario. Nel frattempo, il governo lavora al futuro del paese per quanto riguarda la zonizzazione post-epifania. È in programma un Consiglio dei Ministri a partire dalle ore 21, molto probabilmente si va verso alla zona arancio per i fine settimana. È un giallo rafforzato negli altri giorni durante la settimana. Dopo il vertice, riunito dal Premier Conte con il Ministro Boccia e i capi di delegazione della maggioranza, il Comitato Tecnico Scientifico, è emersa l'idea di un provvedimento ponte proprio tra il 7 e il 15 gennaio. Le proposte sono due, quella di mantenere in vigore le misure vigenti fino al 15 gennaio, data di scadenza dell'ultimo DPCM, DPCM, oppure tornare in zona gialla per il 7 e 8, per poi passare alle misure della fascia arancione nel weekend del 9 e 10 e successivamente sulla base del monitoraggio assegnare le fasce per la settimana seguente. Tra l'altro il Ministro della Salute porterà in Consiglio dei Ministri l'inasprimento delle soglie dell'indice R-T che definisce proprio il passaggio di una regione in fascia arancio o rossa. Lo ha confermato lo stesso Ministro nel pomeriggio. La revisione delle soglie è stata condivisa da tutte le regioni. Ha detto perché tutti condividiamo la necessità di far scattare immediatamente le misure più restrittive quando si va oltre l'uno. Ma a queste notizie di certo non fanno piacere al mondo del commercio e dei servizi, soprattutto i bar e i ristoranti che quindi vedono ancora lontana la possibilità di riaprire, rialzare le saracinesche e tutta questa fase di incertezza è stata definita oggi dal Presidente della Confcommercio di Trieste ai nostri microfoni, Paoletti, come un'attività demenziale. Ascoltiamolo. Che cosa ne pensa di questo possibile lockdown totale per i fini a settimana? Ma io penso che sia una pura pazzia. Già ci hanno massacrato con queste chiusure a singhiozzo e che ci hanno veramente messo a terra. Noi pensiamo alla ristorazione, pensiamo ai pubblici esercizi. Non capisco perché bisogna avere due parametri diversi in pratica. Si parla di una parte che si vuole aprire le scuole e le scuole sappiamo cosa comporterà. La terza ondata, se aprono le scuole, arriverà proprio da lì. E per cui scuole sì, che vuol dire più traffico, più bus, metropolitane, aule, eccetera, e i ristoratori che avevano speso l'iridio di Dio per attrezzarsi nei ristoranti a far sedere quattro persone, con i plessi, che si è tutto, li hanno chiusi. Così come i bar, che potevano tranquillamente lavorare con quel contapersone, come si fa nei negozi di abbigliamento che ci hanno lasciato a perdere. Insomma, hanno fatto una strategia veramente demenziale, lo dico proprio con rabbia, perché ci hanno messo tutti a terra e avremo grosse difficoltà a riaprire i numeri, i numeri di chiusure. Appena si potrà licenziare, questo è il problema, perciò parliamo di marzo, se no faranno altre proroghe, sarà veramente, basta girare la città, chiuso, chiuso, chiuso. L'avevamo già messi male prima per quanto riguarda il commercio online, con questa chiusura e c'inghiosso ci hanno rovinato in pratica. Ecco, adesso in molti sperano una ripresa pensando ai saldi che ufficialmente inizieranno il 7 di gennaio, anche se i pre-saldi, diciamo così, sono già partiti. Ma guarda, è da ottobre che siamo in saldo in pratica, con le vendite promozionali 30, 50, 70, le chiusure che ne stiamo vedendo parecchie, per cui questa di saldi, o si fa una legge in cui almeno 50 giorni prima dei saldi sono vietate le vendite promozionali, oppure lasciamo liberi tutti. E poi c'è l'appello dei pensionati della CGL che chiede al governo misure urgenti per far accreditare già dal primo del mese le pensioni sui conti correnti e sui conti correnti postali dei pensionati. È intollerabile questa situazione, dice il segretario regionale dello SPCGL, Roberto Treu, l'appello che va al governo, all'Inps, alle banche e alle poste di individuare soluzioni che consentano di anticipare anche i pagamenti tramite l'accredito sul conto, come è stato fatto fin dall'inizio dell'emergenza Covid per i circa 270 mila pensionati italiani che optano per il pagamento in contante agli sportelli postali. A sostegno delle attività commerciali artigianali duramente provate da questa pandemia è stata fatta partire una raccolta fondi dall'Associazione Partite IVA del Friuli Venezia Giulia. Ne abbiamo parlato con la Vice Presidente Cristina Pozzo. Con il primo di gennaio è partito il crowdfunding delle partite IVA del Friuli Venezia Giulia che è stato fatto dalla nostra associazione, l'Associazione Partite IVA Friuli Venezia Giulia con il patrocinio del Comitato Nazionale Partite IVA Italia. Questa è una raccolta fondi per le partite IVA del Friuli Venezia Giulia. Abbiamo già inviato le richieste anche a tutti i fogolar pur l'ANS e sono partite questa mattina e questi fondi verranno poi ridistribuiti alle partite IVA che ne faranno richiesta previa il controllo da parte di una commissione formata da un avvocato, un commercialista e da me che sono la Vice Presidente dell'Associazione. è una cosa sicuramente nuova e che non è mai stata fatta ma non abbiamo mai avuto neanche una situazione di crisi così forte negli ultimi cento anni. Non vogliamo che le nostre attività vengano mangiate dagli speculatori che in questo momento stanno già girando e stanno acquistando a pochi soldi le nostre attività e quindi vogliamo in tutti i modi sostenere il Friuli Venezia Giugno. Ecco il motivo per cui è partita questo crowdfunding ecco il motivo per cui chiediamo a tutti di sostenerci qualunque importo è importante per noi e ve ne saremo immensamente grati. Cosa chiedete all'esecutivo regionale e a quello nazionale? Quali sono alcune ancora delle principali criticità che aspettate siano risolte? Prima di tutto dovrebbero risolvere il problema delle imposte non si possono pagare imposte quando non si incassano poi dovrebbero risolvere il problema dei ristori che loro chiamano ristori e io personalmente chiamo oboli perché sono cifre ridicole hanno parlato di cassa integrazione per gli autonomi però in realtà questa cassa integrazione sono 250 euro al mese ora gente che porta a casa più di 10.000 euro al mese non può fare una cassa integrazione da 250 euro per un autonomo perché non ci si paga neanche le bollette ed è vergognoso vogliamo sostenere le aziende facciamolo veramente parlano di far partire le cartelle esattoriali ma si rendono conto questi che c'è gente che si è ammazzata anche qualche giorno fa o no io dico a tutti non ammazzatevi lasciatevi che muoia il governo non ammazzatevi perché tanto questa fase finirà avremo un anno di ripresa perché ci sarà la ripresa in questo anno e piano piano ne usciremo solitamente in questo periodo nel giorno dell'epifania a proposito di futuro si accendeva la Pignarul Grant a Tarcento ma quest'anno non sarà così perché il comando della polizia locale di Tarcento ha deciso che la grande pira epifanica che viene accesa appunto tradizionalmente il 6 gennaio sul colle di Coia a Tarcento non si accenderà è ancora in vigore la zona rossa specifica la polizia locale tarcentina e sulle voci circolate nei giorni scorsi circa una possibilità di rimandare al weekend un'altra data all'accensione del Pignarul la polizia locale ha fatto sapere che al momento questo non risulta possibile stante l'incertezza dell'evoluzione della pandemia e delle relative restrizioni dei prossimi giorni la cronaca tempi di bilanci per la polizia postale dalla pedopornografia all'adescamento di minori dalla diffamazione alle minacce sono tanti gli interventi portati a termine nel 2020 il servizio 4 arresti 18 denunce per pedopornografia e altre 8 denunce per l'adescamento di minorenni non sono mancate le diffamazioni online e le minacce e molestie che hanno portato rispettivamente a 15 e 10 denunce e ancora 4 denunciati per atti persecutori 6 per revenge porn e 50 per truffe online e frodi informatiche questo è il bilancio 2020 della polizia postale del Friuli Venezia Giulia che si è trovata alle prese con una serie di crimini segno dei tempi l'operazione revenge porn ha riguardato una giovane che si è rivolta alla polizia postale di Udine contattata su Messenger da uno sconosciuto che ha pubblicato delle sue foto mentre posava nuda indicando anche nome e cognome tramite apposita strumentazione forense gli agenti sono riusciti a individuare il soggetto un tatuatore non professionista nell'ambito della lotta al contrasto dello sfruttamento sessuale minorile il compartimento regionale ha portato a termine l'operazione Noodles che ha consentito gli investigatori di Trieste e Udine di identificare diversi soggetti responsabili di apologia e stigazione a pratiche di pedofilia e pedopornografia fino all'arresto di un soggetto nella provincia di Viterbo e a sequestro di migliaia di file del contenuto pedopornografico oltre che di molteplici dispositivi informatici nell'ambito della cooperazione internazionale spicca l'operazione Pepito che ha portato alla denuncia di 13 persone per detenzione di materiale pedopornografico un giovane goriziano invece è stato denunciato per adescamento di minori detenzione di materiale pedopornografico in seguito alla denuncia di una ragazza minorenne su Instagram durante il monitoraggio della rete da parte degli investigatori della polizia postale di Trieste sono stati notri individuati alcuni soggetti che nel web approfittando della grave emergenza sociosanitaria accompagnata dalle restrizioni anti-covid cercavano di indurre altri internauti a forme di protesta violente e generalizzate altri bilanci quelli dei pendolari della Friuli Venezia Giulia non bastasse l'epidemia da covid-19 a caratterizzare un anno ferroviario maledetto tra guasti e meteo inclemente con pochissime luci e molte ombre nel bilancio nerissimo dell'annata appena conclusa si salvano appena due dati il fatto delle tariffe 2021 che sono rimaste invariate la conferma regionale degli sconti per gli studenti ha fatto sapere il comitato in quest'ottica va vista una partita cruciale per l'anno nuovo legata al nuovo contratto di servizio da oltre 40 milioni l'anno atteso per questa primavera dal contratto in forma al comitato si deciderà il futuro ferroviario del Friuli Venezia Giulia a dicembre è scaduta l'ennesima proroga di un accordo datato maggio 2008 che vede il Friuli l'ultima regione d'Italia ad andare appunto a contratto sentivate tra le note dolenti dell'annata dei trasporti ferroviari c'è stato anche il meteo meteo che sta lasciando diversi disagi ancora in montagna con la protezione civile che ha prorogato ancora di un giorno l'allerta per il rischio valanghe nel frattempo comunque sono uscite dall'isolamento le comunità di Sauris e Sella Nevea il servizio è stato prolungato tutta la giornata di martedì l'allerta meteo arancione della protezione civile una decisione presa a fronte del pericolo valanghe che si attesta sul grado 4 su tutta l'area montana alpina e prealpina con il rischio che si verifichino fenomeni al di sopra dei 700 900 metri intanto nelle aree montane si continua a lavorare per rendere percorribili le strade che sono invase dalla neve o che sono state interrotte dagli alberi caduti grande l'impegno anche per sgombrare dai tetti la neve che si è accumulata soprattutto a forni di sopra sappada e clout oltre che per rispondere alle varie necessità dei residenti al lavoro si contano al momento 328 volontari provenienti dalle squadre di protezione civile di tutta la regione fianco a fianco con gli operatori del soccorso alpino e dei vigili del fuoco buone notizie arrivano da Sella Nevea che non è più isolata sono infatti nuovamente percorribili la regionale 73 dell'UMI e la regionale 76 della Varracolana da Chiusaforte a Sella Nevea resta invece chiuso il tratto da Sella Nevea a cave del Predil ancora non accessibile al traffico per neve o per il pericolo valanghe sono anche la regionale 110 di Passo Pramollo e parzialmente la regionale 465 della Forcella Lavardette e Valle San Canciano e la regionale 23 della Val d'Incaroio apriamo ora la pagina sportiva dopo la pesante sconfitta di ieri sera contro la Juventus in casa Udinese altre brutte notizie arrivano da Pussetto la distorsione al ginocchio riportata nella gara di ieri ha confermato l'interessamento del legamento crociato anteriore destro domani il calciatore sarà a Roma per essere valutato dal professor Mariani intanto i bianconeri devono scuotersi perché dopo domani mercoledì si ritorna a giocare contro il Bologna Jacopo Romeo il day after la gara contro la Juventus è amaro e fa tanta rabbia non solo per l'opaca prestazione i tantissimi errori e la pesante sconfitta quanto per l'ennesima tremenda notizia che arriva dall'infermeria la distorsione al ginocchio destro rimediata da Pussetto è interessato come confermato dagli esami strumentali svolti oggi anche il legamento crociato anteriore e così l'attaccante argentino tra i migliori di questa prima parte di stagione è diretto a Roma dove domattina sarà valutato e visitato a Villa Stuart dal professor Mariani per decidere il da farsi e verificare se sarà effettivamente necessario l'intervento chirurgico per la ricostruzione una tegola pesantissima sulla testa dell'udinese Digotti che da qui in avanti dovranno rinunciare ad uno degli elementi di maggior spessore in un reparto l'attacco alle prese anche con il problema al piede di Eulofeu che anche oggi si è allenato a parte e a questo punto è quasi da scudere possa essere presente a Bologna più facile che lo spagnolo sia pronto a dare una mano nell'impegno casalingo contro il Napoli di domenica dopo il crack di Iaialo adesso anche quello di Pussetto con la sfortuna legata agli infortuni traumatici che non drattregua ai bianconeri al Dallara allora si ripartirà da Nando Forestieri il migliore del più vivace e propositivo nella partita dell'Allianz Stadium più volte nel vivo di azioni pericolose ed anche ad un passo dal gol la sua verve e la sua grinta saranno fondamentali per contribuire a raddrizzare la barra in una partita da non sbagliare come quella contro il Bologna per fermare la serie negativa di due sconfitte filate oltre a lui il reparto offensivo può contare anche su Lasagna e Nestorowski entrambi con tanta voglia di riscatto per il resto indicazioni incoraggianti sono arrivate da Molina intraprendente contro la Juve ed in crescita dovrebbe comunque iniziare dalla panchina al Dallara con Larsen che ha sfiorato il gol della serata torinese ancora titolare in difesa tornerà a Becao dalla squalifica e dovrebbe andare a riprendersi il posto di De Maillot ma al di là delle scelte servirà la reazione di tutto il gruppo per dimostrare che non è quello dell'Aliance Stadium il vero volto dell'Udinese Tanti argomenti dunque che andremo ad approfondire stasera in prima serata alle ore 21 con Udinese Tonight Giorgia Bortolossi i suoi ospiti e ospite d'eccezione sarà il direttore dell'area tecnica Pierpaolo Marino appuntamento dunque da non perdere per quanto riguarda invece la Serie B ancora in campo il Pordenone in questo turno infrasettimanale con l'appuntamento della sfida contro la Salernitana al momento la gara è sullo 0 a 0 con la Salernitana però in 10 uomini per l'espulsione di Capezzi dal 29esimo del primo tempo questo è il quadro anche con gli altri risultati di giornata 0 a 0 tra Lecce e Monza vince l'Ascoli sulla Regina il Chievo sulla Cremonese 1 a 1 tra Frosinone e Spalla pareggio per 1 a 1 tra Venezia e Pisa vince l'Empoli in casa del Cosenza ci fermiamo qui tutti gli altri aggiornamenti di cronaca e di sport nell'edizione della notte del nostro TG alle 22.30 grazie per averci seguito e buona serata Grazie a tutti